L'aggressione all'onorevole Sergio Silvestris ripropone interrogativi inquietanti nel momento in cui nel nostro territorio a circa 30 anni, dai tempi bui di Annacondia, la criminalità sta pericolosamente rialzando la testa, riportando in auge vecchi e nuovi boss. La cosa sta avvenendo piuttosto in sordina, non per i magistrati e le forze di polizia che stanno indagando, ma per l'opinione pubblica che quasi non ha sentore della situazione. Un omicidio a Barletta, alcune sparatorie e l'esplosione di ordini a Trani e in altre città sono stati solo i bagliori del fuoco che cova minaccioso sotto la cenere. In questo scenario l'interditiva antimafia del prefetto di Bari alla Camassa Ambiente che cura la raccolta dei rifiuti a Biceglie sembra riproporre uno schema esistente già 30 anni fa con la mala bicegliese strettamente in rapporto con i clan baresi e all'epoca anche tarantini. Una situazione che dovrebbe elevare il livello di guardia di tutta la società civile che invece appare indifferente delle istituzioni, soprattutto quelle politiche, che in molte realtà appaiono invece accondiscendenti se non addirittura conniventi. Ma questo è un tema di cui deve occuparsi la magistratura. Sta di fatto che assistiamo ad episodi di sconcertante spregiudicatezza con aggressioni operate da chi ritiene evidentemente di avere il dono dell'impunità ed è convinto che tutto sommato non potrà capitargli granché. Venendo a Biceglie, nel 2014 fu aggredito nei pressi del comune il sindaco Spina, colpito con un pugno che gli procurò una lesione al timpano dallo stesso uomo protagonista di un'altra aggressione ben più selvaggia commessa l'estate scorsa insieme ad altri due compari, tutti ex dipendenti della Camassa Ambiente, ai danni del buttafuori di una discoteca. In questo caso l'imputazione è addirittura di tentato omicidio. Un anno fa ad essere aggredito è stato il commissario straordinario della Casa Divina Providenza, l'avvocato Bartolo Cozzoli. Una vera e propria spedizione punitiva con Malavitosi che fece rirruzione nella palazzina dell'amministrazione e dopo aver impedito qualunque possibilità di comunicazione esterna lo costrinsero a suon di botte ad annullare la disdetta del contratto nei confronti dell'Ambrosia, ditta che si occupava di servizio menza e pulizia. Ieri l'aggressione all'onorevole Sergio Silvestris avvenuta di giorno in pieno centro da un dipendente della Camassa Ambiente incurante della presenza delle telecamere e del clamore che il fatto avrebbe provocato anche a livello nazionale. Del resto il soggetto alle telecamere deve essere abituato visto che è tra gli intervistati nel servizio realizzato lo scorso anno dalla Sette nel corso della trasmissione Piazza Pulita sul tesseramento anomalo del Partito Democratico. Si tratta di azioni spregiudicate, operate da delinquenti convinti forse a ragione di poter spadroneggiare come vogliono regolando conti anche politici e sindacali in modo colombiano. È il momento di accendere la luce su ogni punto oscuro. La magistratura, le forze dell'ordine, non dubitiamo, faranno la loro parte e ora che lo faccia, senza più equivoci, anche la politica di bocca buona.